E' stata presentata a Palazzo Lascaris dal Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e dal Presidente Luigi Chiabrera la ventotesa emedizione della Touring Marathon. I 42 chilometri e 195 metri della storica manifestazione si snoderanno in un percorso con partenza da Piazza San Carlo e arriva Piazza Castello, che attraverserà, oltre il Comune di Torino, anche le città di Moncalieri e Nichelino. Qual è il valore di questa manifestazione per il nostro territorio? La Maratona ormai ha sicuramente una sua riconoscibilità molto forte, valenze di promozione indubbiamente importanti. Ormai è una delle 3-4 maratone più importanti in Italia, riconosciuta a livello internazionale. E' un momento aggregativo forte perché assieme alla Maratona si unisce anche tutto il mondo non competitivo legato alla Stratorino e quindi alla partecipazione popolare come evento di massa. credo sia un momento importante di promozione anche per il nostro sport e per l'atletica, ma direi soprattutto per la città e per quello che il Piemonte rappresenta nell'ambito della promozione anche del territorio.